Milanello alle nostre spalle, appena terminata la conferenza stampa di Marco Giampaolo e dobbiamo dire di aver trovato nelle parole dell'allenatore del Milan la risposta ad una critica che ci aveva fatto una persona che conosciamo, un nostro caro amico, un ex calciatore di Serie A e della Nazionale durante la settimana. Questa nostra fonte di sensazioni e di discussioni era sembrato che sia contro il Verona che contro il Brescia i nostri giocatori pensassero troppo. Dice il nostro caro amico vedo una squadra che è troppo concentrata a pensare a quel che chiede l'allenatore e quindi non riesce a esprimersi al meglio. Per questo il Milan è sembrato lento e contratto a Verona e per alcuni tratti anche lunghi della partita con il Brescia. Oggi su questo senza che noi girassimo la domanda, la critica, l'osservazione a Marco Giampaolo ha parlato lo stesso allenatore del Milan quando dice oggi facciamo le cose pensando troppo a quello che facciamo. Quando arriveremo ad essere automatici, ad essere istintivi sulle cose che dobbiamo fare e non penseremo più allora saremo arrivati al punto. Questo che cosa vuol dire? Che a volte i nostri tifosi si sfogano nei confronti di Marco Giampaolo pensando che sia un filosofo, che sia un maestro, che faccia il personaggio, che sia nella Torre d'Avorio. Noi troviamo in realtà senza bisogno che qualcuno accusi di leccare o di non leccare, stiamo facendo semplicemente un lavoro sulle nostre opinioni e sulle nostre sensazioni e ciascuno dovrebbe mettere in discussione le proprie di sensazioni e di opinioni senza giudicare in maniera irriguardosa e volgare quelle degli altri. La nostra sensazione è che sia invece un allenatore che abbia presente tutto, abbia presente i problemi, le controindicazioni, le critiche, che sappia quello che succede. Perché non lo migliora? Si chiedono i tifosi del Milan. Probabilmente perché è presto, si è parlato della partita con il Manchester United come della migliore espressione estiva del Milan. Quella partita era arrivata dopo 3-4 settimane di raduno con la squadra che aveva iniziato 3-4 settimane prima a lavorarci. Poi a partire da fine agosto è iniziata una nuova stagione, si è concluso il mercato, si sono aggregati i giocatori, sono arrivati gli altri giocatori dalle vacanze. Per cui la speranza è che nel giro di 3-4 settimane, quindi ci siamo, non ci siamo, ci siamo quasi, è stata la sosta per le nazionali, i tempi calcolateli voi. Però o in occasione, sperabilmente del derby o subito dopo, anche la squadra che è nata a fine agosto potrebbe arrivare a quel punto di automatismi, di sensazioni che si era visto a Manchester. Vero che la parita di Manchester era stata lo sbocco di una serie di prestazioni incoraggianti in estate, quella col Bayern stesso, quello col Benfica, mentre ad oggi, eccezione fatta per un certo tipo di miglioramento nel secondo tempo col Verona, per un buon finale, un buon inizio di gara con il Brescia, però non sembra esserci in questo momento la stessa trama, lo stesso sviluppo. Però anche su questo è intervenuto Gianpaolo nel corso della conferenza stampa di oggi, che abbiamo mandato in onda in diretta su Minantv, dicendo che poi le svolte dal punto di vista mentali del gioco e dell'approccio possono arrivare da una parita all'altra, quindi anche eventualmente, anche possibilmente nel derby. Vedremo, Antonio Conte si è riservato il vantaggio di parlare dopo Gianpaolo, ma Gianpaolo ha parlato alle 14, Conte alle 16, ma senza che ci siano state particolari cose dette da Marco Gianpaolo nei confronti dell'Inter. Il nostro non è un allenatore da teatrino della conferenza, non è un allenatore da frecciate e messaggi in conferenza, è un allenatore tecnico, un allenatore di calcio, che parla di calcio e quando si parla di calcio non si manca mai di rispetto a nessuno, come è accaduto oggi, per cui non sono attese particolari risposte che Conte potrebbe o dovrebbe dare a Marco Gianpaolo, che ha dichiarato di conoscere il ceppo e di conoscere l'evoluzione delle idee di calcio dell'attuale allenatore dell'Inter. Sui singoli ha detto Marco Gianpaolo che giocherà Conti, l'avevamo detto nel corso delle trasmissioni, in settimana ci avevano detto ma che sì, ma Borini, è la chance per Andrea Conti, nel corso dell'estate il nostro allenatore molto metodico, molto credibile, molto punto di riferimento in certe scelte, tutte le volte che c'è stato bisogno ha giocato Conti, non moltissime, ma quando c'è stato bisogno ha giocato Conti, per cui gioca Conti terzino, oggi è stato ribadito. Sulle presenze in campo invece dal primo minuto di Biglia Erebici, su cui i giornalisti hanno cercato di stanare Marco Gianpaolo, ecco, non c'è stata la stessa risposta, per cui potrebbe esserci una sorpresa di formazione anche domani contro l'Inter? Potrebbe, potrebbe perché la formazione, lo ha ribadito anche oggi Marco Gianpaolo, passa sempre in secondo piano rispetto alla visione collettiva della squadra e della parita che si va ad affrontare, quindi restiamo in attesa.